E sempre dal Festival di Cannes ci siamo fermati in uno stand che a noi è molto familiare, ci eravamo incontrati a Ostia in occasione del Big Red, ci siamo conosciuti lì, qua una vetrina mondiale importantissima, siamo a Mark Again con Milvio Ricci, una società che avevamo già letto a Ostia per chi aveva già visto il servizio, che effettivamente offre la possibilità a tutti gli appassionati che vogliono vivere la nautica di avere una seconda chance. Sì esatto, una piazza molto importante, personalmente forse il salone più bello d'Europa, era importante esserci, ci piace molto e siamo qui. Questo a sottolineare appunto che Mark Again ha un mercato internazionale, ovviamente fa sì che la nautica italiana, quella che è stata fatta in tanti anni, possa poi continuare a essere esportata nei paesi come la Francia dove qua la nautica abbiamo visto essere una passione che accomuna tantissima gente, tra l'altro c'è un altro clima, molto entusiasmo, molta fiducia, molta voglia di navigare. Sì, se si fa un giro la nautica italiana, anche dopo tutto quello che è successo, è ancora importantissima. La maggior parte degli stand sono italiani, sia di imbarcazioni di produzione sia di accessori. E anche di pubblico, direi che c'è tanti italiani, no? Assolutamente sì, anzi, pubblico secondo me è cresciuto anche rispetto all'anno scorso, se forse non in quantità, sicuramente in valore, nel senso di capacità e di voglia comunque di comprare imbarcazioni. Quindi sì, come italiani la facciamo ancora da padrona, i nostri prodotti sono sempre quelli più belli. Noi principalmente lavorando prevalentemente per le banche italiane, abbiamo tanti prodotti italiani e quindi esportiamo il nostro mondo. La maggior parte, come hai detto tu, dei nostri prodotti vanno all'estero e cerchiamo di popolarli. Questo ha beneficio di chi acquista ma anche poi di chi vende. Ricordiamo che Mark Again offre la possibilità anche ai privati di rivolgersi a voi per, diciamo, quello che è appunto la commercializzazione della propria barca. Assolutamente sì, sì. Lavoriamo non soltanto per le banche, lavoriamo anche per privati che vogliono crescere, diminuire o cambiare e lavoriamo anche per alcune aziende istituzionali che vogliono vendere prodotti che non sono magari del loro marchio. Offrendo tutto quel potenziale che noi abbiamo visto, non vi limitate ovviamente a quello che può essere un portale dove si inseriscono due annunci, voi le barche le gestite, le proponete, le tenete vive, fate tutto quello che abbiamo già detto anche a Ostia ma molti magari non hanno seguito. Esatto, no, no, infatti ti ricordi benissimo la nostra differenza principale che è tutto quello che vedete sul nostro sito e in nostra gestione. Quindi sappiamo... Non ci sono foto rubate qua e là ma sono barche che avete proprio voi. Esatto, no, no, non solo non ci sono foto rubate qua e là ma non ci sono neanche foto di catalogo, anche se alcune delle volte lo sembrano. No, tutta roba reale. Dopo un'attenta ovviamente valutazione poi viene messa sul mercato. Sì, valutazione che può anche essere di cose che magari possono anche non funzionare. Più che altro diciamo informazione più che valutazione. Quindi assolutamente sì e venite a trovarci. Ecco, allora speriamo che molti abbiano visto questa intervista per venire a scoprire Markagain sia per quanto riguarda il portale su internet da cui si può accedere e poi a incontrare proprio di persona coloro che fanno tutto questo lavoro. Grazie Emilio, alla prossima. Grazie a te. Il mondo secondo me è comunque un'impresa anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale nel 2004. A Napoli non esiste ancora...